buongiorno miei carissimi amici di investire in borsa caccia dei dividendi oggi rispondo all'email di ugo uno dei miei followers più affezionati mi ha scritto cosa chiedendomi cosa ne penso di un etf o meglio più che altro cosa ne penso di questo articolo è un articolo di qualche mese fa fine novembre del 2022 però comunque abbastanza attuale e mi permette di andare ad analizzare un etf che non avevo mai analizzato tra l'altro etf che esiste in due versioni ad accumulazione e a distribuzione dei proventi quindi con i nostri amati dividendi in questo modo ognuno può andare a seguire la strategia che preferisce quella di una rendita periodica oppure quella dell'accumulazione per raggiungere i propri obiettivi cosa si dice in questo articolo investimenti azionari in sella all'otto volante è sotto gli occhi di tutti negli ultimi 12 mesi andamento delle azioni decisamente sull'otto volante forti turbolenze sicuramente in passato chissà forse anche in futuro tuttavia il fattore quality viene identificato da i shares come ben posizionato per superare queste turbolenze anche quelle future eventualmente meglio se abbinato a filtri esg ovvero quelli che sono attenti a ambiente sociale e governance aziendale personalmente ritengo che possa essere un fattore trainante per il futuro però bisogna comunque che i fondi e gli etf investano seriamente in aziende attente a questi fattori nell'articolo che magari potete anche leggervelo in maniera completa andando a fermare eventualmente il video nei momenti in cui potete andare a fare i vostri approfondimenti cosa si dice gli indicatori che vengono utilizzati da mci per individuare le aziende di qualità sono il return on equity quindi il roe la variabilità degli utili e il rapporto debito equity insomma diciamo delle caratteristiche che piacciono tante a noi quindi un alto roe una bassa variabilità degli utili e un basso rapporto debito equity quindi dei bassi debiti aziendali il roe misura la capacità di un'azienda di guadagnare rispetto al capitale investito perciò un valore alto riflette un vantaggio competitivo inoltre più bassa è la variabilità degli utili più elevato sarà tale vantaggio assieme alla qualità gestionale infine il rapporto tra debito e capitale misura il grado di solidità di un'azienda in funzione della leva finanziaria livelli troppo alti di inibitamento infatti possono innescare problematiche in merito alla capacità di ripagare i debiti mettendo quindi a rischio la sopravvivenza dell'azienda e o i suoi rating creditizi pensate che esiste un etf proprio di i shares che permette di investire in maniera banale su aziende di questo tipo ancora lasciamo un pochino perdere questi dati però andiamo a vedere che alcuni dati forniti ad esempio il margine lordo alcuni dati forniti da i shares ovvero da black rock mostra come possa essere giustificato un approccio selettivo attraverso esposizioni di qualità guardando alle metriche odierne si dice per esempio il rendimento del capitale proprio quindi il roe del fattore quality nei mercati sviluppati è pari al 20,8 per cento contro un valore medio delle azioni globali del 15,8 quindi un 5 per cento in più a parità di area geografica il fattore quality offre inoltre una maggiore esposizione verso i titoli con margini relativamente elevati e stabili rispetto al mercato i prezzi alla produzione degli stati uniti dell'eurozona sono cresciuti rispettivamente del 12 e 43 per cento rispetto un anno fa spinti dalle pressioni sull'offerta l'aumento dei costi dell'energia e anche dei salari pertanto avere dei margini elevati è sempre importante perché chiaramente si va a bilanciare meglio l'effetto dell'aumento dei costi il 2022 si conclude è stato un anno difficile per le azioni che ha portato l'asset class verso valutazioni a sconto a maggior ragione per le esposizioni di qualità utilizzando un esempio come esempio il rapporto prezzo utili il famoso pie atteso a 12 mesi gli analisti hanno ridotto le loro stime sulle valutazioni dei titoli di qualità dei paesi sviluppati del 36 per cento rispetto al 29 dell'intero mercato pertanto si conclude il fattore quality appare attualmente più conveniente rispetto al mercato come andare quindi a esporsi a un mercato di questo tipo a un fattore di questo tipo almeno per quanto riguarda l'indice mci europe quindi europa quality c'è la possibilità di posizionarsi su 126 aziende che soddisfano tali requisiti rispetto alle 400 posizioni del benchmark originario e andiamo a vedere quindi l'etf in questione e poi faremo alcuni confronti quindi seguitemi fino alla fine allora per quanto riguarda l'etf torniamo sull'altra schermata che mi sono preparato mi sono stampato diciamo la scheda di just etf poi eventualmente ve lo potete andare a vedere da solo qui trovate l'aising e il ticker il ticker i e q u ecco qui cosa ci dice che il prezzo della singola quota di questo etf ho scelto quello ad accumulazione per questo video ma c'è anche quello a distribuzione è di 8,87 non vuol dire niente il singolo prezzo però per quanto mi riguarda vuol dire una bella cosa è molto molto adatto secondo me a fare un piano d'accumulo infatti un conto è fare un piano d'accumulo con un etf che costa 9 euro circa puoi prendere tante quote puoi andare anche a giocare sul fatto di comprarne di più quando il prezzo scende e un conto è fare una pack magari su un etf che ha un prezzo della singola quota di 100 200 300 euro è molto più complicato abbiamo detto quindi com'è che investe questo etf qual è la sua strategia quindi elevato fattore qualitativo l'abbiamo detto prima alta percentuale degli utili distribuiti agli azionisti bassi livelli del debito bassa variabilità del profitto anno dopo anno un alto roe le masse in gestione non sono tantissime 276 milioni non sono neanche poche il costo è 0,25 per cento annuo nella media diciamo di un etf azionario replica fisica a campionamento ottimizzato ovviamente non c'è copertura valutaria però essendo euro non ci dovrebbero essere grossi problemi per noi italiani l'etf esiste da 8 anni dal 16 gennaio 2015 volatilità 18,75 la andremo a confrontare che altro dire le partecipazioni sono 127 le prime 10 pesano parecchio per un 40,7% ma all'interno abbiamo comunque aziende importanti abbiamo settore farmaceutico Novo Nordisk Roche poi a seguire Nestè che non è Nestlé ma è un'altra azienda ASML, LV e MASH quindi Louis Vuitton, Nestlé adesso, Unilever, Riotinto Allianz e Diageo parlavamo di rischio cambio in realtà possiamo vedere come il Regno Unito pesi per il 28,5% la Svizzera il 17,97% quindi rischio cambio sterline rischio cambio franco svizzero c'è un buon bilanciamento tra i vari settori con più o meno un peso equiparato tra finanza beni di prima necessità salute e industria tutti sopra al 10% ma sotto al 15% per quanto riguarda altri dati qui vediamo l'andamento dell'ETF una bella storia di crescita non ha neanche perso tantissimo negli ultimi mesi difficili nell'ultimo anno del 2022 ma poi lo andremo a vedere meglio nel dettaglio per quanto riguarda infatti l'andamento vediamo un meno 12% nel 2022 non è andato malaccio nel 2023 sta già iniziando con un più 4,62% nel momento in cui sto facendo il video 2021 chiaramente molto bene e attenzione perché è andato bene anche nel 2020 anno dello scopo della pandemia covid anno in cui gli Stati Uniti avevano reagito molto bene ma in cui l'Europa era rimasta indietro cosa dire ancora chiaramente è quotata su varie borse anche sulla borsa italiana questa la volatilità si è chiaramente alzata nel 2020 per poi abbassarsi nell'ultimo periodo ma è secondo me interessante andare a confrontare questo ETF con altri non simili ma comunque che investono sempre in Europa ne ho scelto uno il classico euro stocks 50 l'ho confrontato chiaramente con questo high shares europe quality factor con un high shares europe select dividend 30 e con lo spider euro dividend aristocrat insomma stili di investimento abbastanza difficili abbastanza differenti e andiamo a vedere qual è stato quello vincente allora confrontando questi quattro fondi sicuramente da notare la massa in gestione la high shares quality factor è quello con la massa in gestione più bassa quindi sarà da andare a verificare eventualmente la liquidità sul mercato però non è particolarmente preoccupante secondo me è una dimensione di 276 milioni e sicuramente i 3 miliardi e mezzo del euro stocks 50 è tutta un'altra cosa anche a livello di costi 0,10% il più economico quello sull'euro stock 50 gli altri tre si equivalgono grossomodo da 0,25 a 0,31% a livello di volatilità è importante anche questa da andare a controllare l'high shares quality factor e il dividend aristocrats ricordiamo il ticker eudv sono quelli con una volatilità inferiore molto più alto invece la volatilità per il select dividend 30 e per l'euro stocks 50 mediamente una volatilità attorno al 3-4% più elevata andando a vedere l'andamento di questi quattro etf possiamo vedere come negli ultimi tre mesi il quality factor sia stato nettamente il peggiore con un mercato in rialzo il quality factor ha avuto una crescita del 13% circa mentre invece gli altri tre etf hanno avuto una crescita dal 18 al 23% circa il migliore è stato l'euro stocks 50 ma voi giustamente mi direte lorenzo che fai un confronto fra tre mesi su tre mesi troppo poco giusto quindi questo qui era però per dare un esempio per far vedere come in realtà andando a scegliere diversi periodi di valutazione si possono avere magari opinioni errate su determinati fondi allarghiamo l'orizzonte temporale al massimo possibile quindi dal 2015 direi che otto anni sono più attendibili la situazione si ribalta infatti il migliore diventa proprio l'i shares quality factor lo vediamo con la linea rossa è stato di gran lunga migliore di tutti al secondo posto abbiamo l'euro stocks 50 e poi i select dividend e alla fine soltanto il dividend aristocrats c'è da dire che il dividend aristocrats è stato il peggiore ma pre scoppio di pandemia era praticamente il migliore addirittura 2019 era in testa all'inizio del 2020 se la giocava proprio con il quality factor e poi non ha beneficiato quasi per niente del rimbalzo post covid anzi possiamo dire che praticamente è l'unico ancora sotto i livelli massimi raggiunti prima dello scoppio della pandemia covid insomma anche qui l'abbiamo detto poco fa a seconda del periodo temporale che andiamo ad analizzare si possono ottenere risultati differenti insomma spero che questo video vi sia stato utile ditemi se conoscevate questo etf abbiamo visto come abbiamo avuto sicuramente una performance sorprendente negli ultimi tre anni post crollo covid sicuramente migliore rispetto agli altri etf presi in esame sempre sulla europa potrebbe essere eventualmente una interessante via di mezzo un interessante compromesso tra chi cerca comunque una crescita del capitale senza rinunciare anche ai dividendi visto che esiste anche la soluzione a distribuzione con un dividende il di cerca il 2 e mezzo per cento spero che questo video vi sia stato utile anche per capire come si analizza un etf per oggi abbiamo finito un saluto a tutti da lorenzo a presto e ciao